Come è opportuno evidenziare con i big data? Per poter anche costruire un processo che risponda sempre di più ai bisogni del cliente, quindi non soltanto nei bisogni di copertura assicurativa, di bisogni di protezione eccetera, ma anche dei bisogni che si manifestano nel momento della verità, quindi nel momento del sinistro, nel quale il cliente ha bisogno di trovarsi appunto dall'altra parte una compagnia capace di risolvergli il problema e di dare una risposta ai suoi problemi.